Mieli, il presidente Fico ha detto che ci vuole Green Pass anche per i deputati, perché i deputati devono essere come i cittadini. Non si può fare delle leggi in cui si obbligano le scuole, le fabbriche, tutti, ad avere Green Pass e poi per sé dire no, insomma, ammantarsi. So che è una cosa controversa per principio, perché un deputato deve poter avere il diritto a entrare, comunque, però se è un appestato, e non voglio fare paragono, oppure anche ha la rosolia, lo fermano e non si può entrare. Quindi se è sospetto di poter avere il Covid, visto che c'è il vaccino... Facciamoci il vaccino. Diceva prima la professoressa... Però ho sentito che i presidenti delle due Camere dicevano che ben il 10%, cioè 90 parlamentari, 60 e non sono vaccinati. Non fanno i nomi. Sono tanti, secondo me, il 10%. Sono tanti che non danno il buon esempio. Che sono tutti i partiti, soprattutto, se ho capito bene la notizia, 5 Stelle, Lega, ma ce ne sono anche a sinistra. Così, sì, ma sarà tutto l'arco costituzionale. Il punto è che, appunto, dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi laddove non ci siano controindicazioni mediche. Diceva...